Una cosa a cui forse i cittadini italiani non stanno pensando o non stanno osservando, probabilmente perché i media non glielo dicono, è il fatto che questa riforma costituzionale, unita alla nuova legge elettorale, che verrà fatta a breve, in pratica non è altro che un invito, è una certificazione della dittatura che ci sarà, perché il primo partito, anche se avrà delle percentuali molto basse, ma farà parte di una coalizione che andrà a vincere, il primo partito pur avendo una percentuale molto bassa potrà governare il paese grazie a un premio di maggioranza assurdo, in più con la riforma costituzionale tolgono il Senato, esisterà solo la Camera che farà le leggi, avremo un partito che magari raggiungerà solo il 7-8% che governerà questo paese, e ieri hanno anche deciso che per entrare in guerra basterà il parere della Camera, cioè la maggioranza della Camera, non ha senso, tutto ciò non ha senso, è un grande incubo, un grande incubo che si chiama PD, al quale dovremmo assolutamente porre una soluzione. Grazie